Gaston benvenuto al Monza una trattativa lampo come l'hai vissuta perché hai scelto il Monza grazie mille sono sono molto felice di arrivare al Monza da un po' che si parlava di questa possibilità quindi non vedevo l'ora di cominciare a giocare a calcio quindi questa una società con prospettiva di salire con tanta voglia di stare in Serie A quindi quella è la cosa che mi ha colpito di più per cercare di aiutare la squadra. Hai conosciuto già il presidente Berlusconi il dottor Gagliani cosa ti hanno detto come è stato incontrarli? No beh è stato bellissimo incontrare personaggi così importante a livello internazionale nazionale internazionale quindi niente loro hanno hanno creduto in me hanno fiducia in me quindi mi tocca ripagare in campo. Potrai giocare da gennaio adesso hai tempo per conoscere i compagni per allenarti come cosa porterai al Monza? Penso che questo periodo sarà molto importante per per conoscere i compagni l'allenatore tutto lo staff penso che quando c'è un buon rapporto tra tutti penso che fa bene la squadra. Che impressione ti ha fatto da fuori in Monza se hai visto già qualche partita? No, un squadro che gioca bene al calcio che che le piace dominare e gioca per vincere questa la cosa più importante. Cosa darai tu a questa squadra da quando potrai scendere in campo? Senza lui io chiederò tutto per questa maglia per per questa società e spero di di essere all'altezza. Benvenuto. Grazie mille. Grazie mille.